se vuoi risparmiare contatta sotto e avrai il tuo scooter chiave in mano ad un prezzo davvero interessante ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi scooter elettrici nello specifico andiamo a parlare di lui allora la scorsa volta abbiamo visto il fratello maggiore oggi andiamo a vedere mqgt ragazzi è uno scooter 125 totalmente elettrico ovviamente con doppia batteria questo nello specifico si chiama standard range perché prossimamente si prospetta l'arrivo di un nuovo modello il modello diciamo più prestazionale o rivisto anche per quanto riguarda il quadro strumenti una batteria un tantino più grossa questo nello specifico monta due batterie due batterie però ragazzi a differenza del modello precedente che erano batterie da 60 volt questo invece monta batterie da 48 volt ti faccio vedere questo è il vano sottosella una due batterie 48 volt 48 volt 31 e 31 ampere ora cioè insieme fanno un pacco batterie da 48 volt circa 62 ampere ora allora il motore un motore bosch da 48 volta da 3.1 kilowatt cioè 3000 watt circa coppia 45 newton metri ragazzi ha una coppia sprint e molto molto diciamo vivace come mezzo elettrico come tutti i mezzi elettrici dove serve hanno tanta 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 potenza ti mostro ora una batteria andiamo a staccare il cavo di alimentazione questa ragazzi è una batteria presa di ricarica questa va posizionata dentro il vano sottosella e il connettore va tablato così dal momento in cui la colleghi il computer interno sa se c'è una o due batterie questa è la presa totale di ricarica eccola qui qui si collega il caricabatterie 220 e poi andare a ricaricare entrambi in maniera diciamo diretta per quanto riguarda la posizione del casco così con due batterie non va un casco sottosella però eventualmente potresti andare a toglierne una questa nello specifico e il sottosella è stato diciamo progettato con un'incavatura che ti permette di poter posizionare in maniera corretta un caschetto per quanto riguarda il l'opzionale sul frontale abbiamo una porta usb eventualmente vuoi andare a ricaricare uno smartphone qualsiasi cosa cinque volto di uccida il porta borse in plastica eccolo qui il la chiave però ragazzi la un'altra chiccheria di questo modello è che non parte tramite la chiave cioè la normalità degli scooter entri la chiave giri abili tutto e metti in modo questo no questo parte solo ed esclusivamente se pg il bottone del telecomandino rosso pigiando questo abili di tutto dal telecomando sempre puoi abilitare disabilitare l'allarme perché anche un sistema di allarme che ora mettiamo in prova ok perfetto proviamo a fare qualche movimento suona il ciclino posto nel frontale dell'oscuro per bloc per diciamo va disabilitare clicchiamo disabilitato inseriamo la chiave clicchiamo il tasto rosso del telecomando e il quadro strumenti si avvia inizia la ricarica eccolo qui mi ha calcolato due batterie modalità dynamic sempre tre modalità dynamic sport eventualmente abbiamo anche la piccola cioè quella molto diciamo più a risparmio energetico e save perciò 98 per cento attualmente disponibile questo è il chilometraggio e poi questi sono i chilometri orari in tempo reale che poi a percorrere nel comparto tasti abbiamo il cruise questo basta programmarlo ad una velocità di 20 30 chilometri orari clicchi e lo scooter in automatico ti manterrà sempre quella velocità costante poi abbiamo le quattro frecce ovviamente tutto il comparto di illuminazione ragazzi come sempre in questi scooter ea led come vedi solo uno due e anche sul posteriore abbiamo quattro frecce stop e posizione a led c'è anche la lampada o led per la targa sotto e abbiamo poi ovviamente oltre le quattro frecce abbiamo poi indicatori direzionali destro e sinistro si chiudono pigiando questo normale comunissimo cinquantino ripeto che questo non è un cinquantino questo modello è il 125 arriverà ragazzi in commercio anche un modello uguale identico a questo però cinquantino stessa massa stesse batterie solo che sarà limitato in potenza cioè in chilometri orari perciò se te serve un cinquantino per esempio per tuo figlio questo non puoi prenderlo perché ovviamente è un 125 se però ti piace il modello il design lo stile che ragazzi è davvero davvero carino potrei averlo anche in configurazione 50 poi abbiamo il tasto verde che il tasto di avvio grazie a questo tasto avviamo al il motore diamo via al motore e lui sa che dal momento in cui giriamo l'acceleratore lui può partire e poi da qui cambiamo le modalità idemmo anche questo invece possiamo andare a programmare la centralina interna che vada diciamo accendere e spegnere le luci frontali in maniera automatica cioè quando per esempio li capta che c'è oscurità in automatico ti andrà accendere il faro il faro che come sappiamo ormai abbiamo visto in passato nella serie new è un cerchio luminoso come diurno e poi abbiamo abbaglianti an abbaglianti che sono questi interni abbagliante abbagliante an abbagliante abbagliante ok perfetto il quadro strumenti ragazzi non è a colori ma è un normale lcd diciamo tra parentesi bianco e nero però si vede molto bene anche sotto il sole sotto la luce del sole per esempio ora noi siamo all'aperto e come vedi si vede benissimo del comparto freni monta doppio freno a disco un anteriore uno posteriore il freno a disco è anteriore in 220 mm invece il freno a disco posteriore è un freno a disco da 180 mm quanto riguarda la massa il peso del mezzo siamo intorno alle 92 kg e può trasportare una massa totale complessiva di circa 277 kg si adatta benissimo all'uso in città comodo veloce anche nella ricarica si stimano circa sei ore per una ricarica completa di entrambi i pacchi batterie ora faremo un giro qui intorno ti farò vedere le partenze nelle tre modalità eco dynamic e sport questo il cavalletto laterale e quello cavalletto centro ragazzi comodi sono anche questi maniglioni per il passeggero ben saldi si può anche eventualmente mettere un portapacchi dietro tramite la strutturina che va poi aggiunta presa come opzionale come accessorio opzionale dopo aver inserito la chiave cliccato il pulsante rosso clicco il verde e andiamo a fare un giretto intorno ok modalità e diciamo la risparmio energetico via 19 chilometri orari la velocità massima in modalità eco andiamo in modalità dynamic 30 chilometri orari massimi in modalità dynamic passiamo ora alla modalità sport che è ovviamente quella più spinta andiamo allora valutando ragazzi la mia corsa che è limitata io sono arrivato a 38 chilometri orari però comunità scheda tecnica può arrivare anche a 70 chilometri orari niente ragazzi se questo o altri scooter della famiglia new o anche zero ti possono interessare vuoi vederli e sei in sicilia ti faccio questo esempio puoi contattare nei mail sotto in descrizione trovi tutte le informazioni il prezzo di listine in questo momento è di circa 3 mila e 300 euro però da questi c'è l'eco bonus che può variare con o senza rottamazione però se sei interessato in descrizione ripeti contatti se vuoi risparmiare contatto sotto e avrai il tuo scooter chiave in mano ad un prezzo davvero interessante ragazzi per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione lascio like commenta sotto dimmi che te ne pare del nuovo scooter della new nei prossimi giorni se riesco andremo a vedere altri modelli non solo di questo brand comunque ciao ragazzi al prossimo video